L'evoluzione del concetto di potabilità, il contrasto ai nuovi inquinanti e la cooperazione nella gestione integrata della risorsa idrica. Su questi temi hanno ragionato i vertici delle più importanti aziende del servizio idrico del Veneto del Friuli Venezia Giulia, assieme ai rappresentanti delle autorità di controllo, nell'ambito dell'incontro la sicurezza nella gestione delle acque, organizzato con il patrocinio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto, al centro idrico Novoledo di Villa Verla, da Acegas APS AMGA ed Eratec, la società del gruppo ERA a cui sono affidati i laboratori di analisi del gruppo. Dopo il tema della potabilità dell'acqua è stato dibattuto quello dell'importanza della cooperazione tra gestori per la totale sicurezza dell'erogazione idrica. L'acqua deve essere garantita, garantita di buona qualità, dobbiamo lavorare insieme con i laboratori, con tutte le analisi che facciamo per garantire la protezione delle falde e quindi la qualità dell'acqua e dobbiamo garantirla anche come quantità. Tra gestori del Veneto abbiamo da tempo imparato a cooperare insieme con una società consortile che si chiama Viveracqua e su questo abbiamo appoggiato tante azioni concrete. Non da ultima la collaborazione per far fronte all'emergenza della contaminazione, della gravissima contaminazione delle sostanze per flora alchiliche. Non sono mancate tematiche prettamente tecniche come l'evoluzione dei piani di monitoraggio delle acque e l'importanza dello sviluppo di tecnologie innovative nei laboratori per garantire efficacia ed economicità di gestione a fronte di nuove esigenze di analisi. In questo noi come laboratorio Eratec abbiamo recentemente acquisito il laboratorio di Novoledo per cercare di appunto portarlo in una rete sistemica laboratoriale capace appunto di vincere queste sfide mettendo a fattore comune competenze, economie di scala e un approccio all'innovazione tecnologica che possa permettere anche di traguardare scenari laboratoristici un pochino più all'avanguardia.